Monza Camper oggi vi presenta la serie A di Carado, il mansardato A461, perfetto per organizzare viaggi di gruppo senza patire lo spazio. Il mansardato è omologato per sei persone e il suo punto forza è lo spazio e le tante soluzioni per lo stivaggio che è capace di offrire anche grazie all'alto portellone del garage. I cassettoni spaziosi e le ampie superfici caratterizzano la bella cucina collocata nella parte posteriore del campo. Sempre nel reto del mansardato troviamo i comodi letti a castello singoli con dove good side. La zona notte è completata dal letto in mansarda e dalla dinette che si trasforma in ulteriori posti letto. Il bagno offre tutto quello che serve in un bagno, in uno spazio minimo. Il sogno di viaggiare in ogni periodo dell'anno si realizza grazie ai camper Carado che offrono 7 anni di garanzia, riscaldamento a gas combi 6, isolamento termico styrofoam con il tetto e parete posteriore in vetroresina robusta e pareti laterali in alluminio liscio. A364 Carado ha un motore fiat ducato 2003 140 multijet 104 kilowatt euro 6d. L'avventura ti aspetta, vieni a trovarci e tocca con mano la qualità Carado. Monza Campo, più liberi, più felici.